Tra le varie attività durante il pomeriggio a Dello nella Sagra del Chiodino si è svolta l'inaugurazione della farmacia Scalvini con la celebrazione del centenario d'attività presenti oltre al sindaco Ettore Monaco, anche Margherita Peroni. Perché penso che questa inaugurazione non potesse trovare una collocazione migliore rispetto alle giornate che si stanno vivendo, che sono giornate che vogliono celebrare e tenere viva una tradizione che è quella di Dello, che è il patrimonio di Dello e la farmacia è certo tra i patrimoni di questo comune. Lo è oggi, lo è stato ancora di più in passato quando il sistema sanitario, potrebbero raccontarcelo, non era il sistema che abbiamo oggi e la farmacia era un punto importantissimo di riferimento. Io credo che continui ad essere un importante punto di riferimento anche per lo stile, lo spirito che ha caratterizzato questa tradizione familiare. Io penso che dobbiate leggere tutti il libro, perché nel libro non soltanto ci sono delle interviste piacevolissime, ma c'è un grande insegnamento. Oggi, lo ricordava il sindaco, si inaugura una farmacia che è all'insegna del rinnovamento, dell'innovazione tecnologica, quella che di questi tempi è giusto portare.